Scegliere l'accelerazione, Ale! C'è solo uno ora, ok? E' il tuo forco! Ok, noi dobbiamo andare a direttore! Ale, Simon, Ale! Ok, l'accelerazione è arrivata. Ok, l'accelerazione è arrivata. Ok, l'accelerazione è arrivata a 90 gradi. L'accelerazione è arrivata nel ultimo chilometro, ragazzi, dobbiamo andare in gas, eh? Ale, Simon, fai il corno! Ok, l'accelerazione è arrivata. Sì, c'è una fana. Sì, sì. Ale, eh! We go for the win, eh! We go for the win! We go for the win, guys! We go for the win! We go for the win, guys! We go for the win! Ale, Ale, Greg! Ale! Ale, Stefan, eh! 4 riders left now, eh! 4 riders, someone is out, guys! Ale! Stefan, questo è il tuo giorno, eh! Ale, we go for the win! We go for the win! Cazzo davanti, Stefan, davanti! Cazzo davanti, Stefan. Eh, quindi, cazzo davanti, republican un po' Eh, mi spiace, ma è passato prima il nuovo, ma! Passa a voi, passa a voi. Ale, guys! Four riders left, we go for the win! We go for the win! Ale! Yeah, che fangola, eh! Stefano fangola, affinva passando. Sì, sì. Eh, eh, 한� ciccotto Stefano. Sì, Stefano, eh! ecco 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 fino alla fine solo con 4 solo con 4 no chi è che è morto? 20 secondi 20 secondi sì sì bravo Marco bravo bravo Marco bravo bravo Marco bravo grande Marco sei grande wait Katusha no don't don't come ci bravo 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 grande guarda remuntada remuntada one week later ci aveva messi proprio al limite tutti eh ho mi non stai bontando ha fatto un tempo galattico eh sì bisogna anche pensare la classifica generale non solo una tappa sì a tutti